Oggi è il 16 di aprile, un aereo che vola, vedete cosa c'è di particolare? Di particolare al di là di questo meteo c'è che sta piovendo. Il pilota per questa volta non è in piazzola, solo perché la radio non ne ha bene se piove. Ma si vola lo stesso anche con la pioggia, sembra un cielo finto, approccio di atterraggio, credo. No, era un passaggio basso verso la telecamera. Un cielo bellissimo, l'aereo si vede benissimo con questo tempo. Sto prendendo della gran acqua, spero che Fabio sarà riconoscente. Sì, sì, guarda, è spettacolare per fare le riprese con questo cielo. Piazza la vuota, perciò voglio guardare la radio e un atterraggio dolce. Non c'è nessuno al campo volo. No, no, non è vero, sono tutti lì. Rullaggio. No, no, non c'è nessuno al campo.